Salve, sono Raul Torresi, il direttore della fotografia del film Le stelle inquiete, o meglio, l'autore della cinematografia del film. Questo è il nuovo termine coniato dall'EC, Associazione Italiana Cine Operatori e convalidato a livello ministeriale per il riconoscimento del diritto d'autore sulle immagini che noi realizziamo. Questa che vedete è una mia personale selezione delle immagini che reputo le migliori del film. La cinematografia del film risulta molto naturalista. Per arrivare a questo risultato abbiamo sempre illuminato anche le molte riprese in esterni giorno. Spesso ho dovuto aspettare i momenti giusti della giornata per poter meglio intervenire con la mia illuminazione. La mia strumentazione è stata 10 metri di binario e 10 kilowatt di luce di Deadlight e anche il 2002, cosa che ci ha permesso di rimanere sempre attaccati alla rete della villa in cui giravamo senza l'inquinamento acustico e ambientale del gruppo elettrogeno. La macchina con cui abbiamo girato è una Sony V1E, il formato è un HDV. Per migliorare la qualità di ripresa però ho preferito usare due R-Disc che sono della Sony, si chiamano HVR DR-60. Ognuno di questi poteva contenere fino a 250 minuti per la ripresa. Nella villa abbiamo allestito anche una stanza per la post-produzione dove ogni sera scaricavamo il materiale proiettandolo su uno schermo in HD, proprio come si faceva fino alla metà degli anni 90 con le proiezioni dei giornalieri in pellicola. Io penso le proiezioni siano un momento importante per tutti quanti per capire la direzione in cui va il film, oltre che un arricchimento a livello tecnico per valutare i problemi legati alle macchine da presa, alla messa a fuoco e alla cinematografia in generale. Purtroppo oggi i giornalieri in pellicola non si stampano più per via dell'eccessivo costo. Ecco allora che il digitale in questo senso ci permette un ritorno al passato. Il mio assistente è stato Andrea D'Emilio. Con lui condividevamo la preparazione e la realizzazione dei carrelli e dell'allestimento luci per le scene. Quando serviva Andrea curava anche la messa a fuoco, che normalmente con queste macchine piccole non viene molto curata. In questo lavoro ho tentato di adattare la tecnica di illuminazione tipica dei film in costume a un mezzo digitale ultraleggero e sono davvero molto soddisfatto del risultato finale. Le stelle inquiete è stato stampato in pellicola Tecnicolor di Roma. Prima ho potuto fare una pre-color grading insieme alla regista, lavorando in Final Cut la Kitchen Film, l'ufficio di produzione. Poi siamo entrati in laboratorio e abbiamo finalizzato il prodotto, lavorando con Quante e l'IQ Color. All'illuminazione delle scene, l'in Tecnicolor, ho aggiunto degli effetti di Blair per ridurre il senso digitale che si sentiva soprattutto nei cieli e nelle fiamme delle candele. Più qualche ritocco sui neri che la proiezione digitale della Tecnicolor mi dava la sicurezza di poter spingere fino a livello desiderato, cioè andare volto in profondità. La mancanza di pressione esterna è stato un altro aspetto determinante dell'ottimo risultato, grazie al sostegno della produzione e della regia. Grazie a tutti.